Buonasera a tutti e tutte e benvenuti al penultimo incontro del secondo ciclo di Extrema Razio, Dialoghi di questo tempo. Questa iniziativa nasce da un'idea di Emanuela Carbet, Maria Rita Digilio, Guido Mazzoni e del direttore del nostro dipartimento Pierluigi Pellini. Passiamo adesso a presentare i due ospiti di questa sera, ovvero Giuseppe Cederna e Simone Beta. Giuseppe Cederna non ha quasi bisogno di presentazioni. Attore nel film Mediterraneo di Gabriele Salvatore, premio Oscar nel 1992, ha lavorato con grandissimi registi come Mario Monicelli, Marco Bellocchio, Ettore Scola e Gianni Amelio. Ha all'attivo più di 50 film, senza considerare le numerose produzioni teatrali, tra le quali voglio citare in particolare Da questa parte del mare. Cederna è però anche uno scrittore. Nel libro Il Grande Viaggio, edito da Feltrinelli, da cui ha tratto anche uno spettacolo teatrale, ci racconta il suo viaggio nel nord-ovest dell'India, alla scoperta del grande fiume Sacro Gange. Con Feltrinelli ha pubblicato anche Piano Americano, nel 2011, nel quale ci racconta del suo viaggio in America e un po' anche dentro se stesso, in un certo senso. Come avrete potuto capire, Cederna è anche un grande viaggiatore. È fra l'altro impegnato in prima persona in progetti di sviluppo nel nord dell'India. A questo proposito ci terrei a citare la sua associazione ONLUS, una cosa giusta, ovvero un'organizzazione a sostegno della salute delle donne e dei bambini di Barsu, nel nord del paese. Passiamo adesso al professor Simone Beta. Simone è da sempre, io l'ho conosciuto da studentessa ormai vari anni fa, una colonna del nostro dipartimento e degli insegnamenti di grecistica dei nostri corsi. Ha al suo attivo un numero impressionante di pubblicazioni, ma non è il numero che colpisce, almeno non solo, quanto la varietà e la qualità. Non c'è tempo per dilungarci stasera. Ricorderò almeno i suoi principali interessi, il teatro innanzitutto, antico, Aristofane in primis e moderno, e poi i riddles, ovvero gli enigmi, gli indovinelli, di cui è forse uno dei massimi esperti a livello mondiale. A proposito di questi ultimi, lasciatemi citare il labirinto della parola, uscito per Enaudi nel 2016. Basta, non vi tedio più, non posso rubarvi più altro tempo, e quindi cedo volentieri la parola a Simone. Grazie in onore di questa presentazione, ringrazio anch'io Emanuela Carbet, che funge da Art Director di questa iniziativa, ringrazio anche Giuseppe di aver accettato di dialogare con me in questa occasione. Io ho conosciuto Giuseppe qualche anno fa, proprio in occasione del suo spettacolo Da questa parte del mare, che ho visto in un posto molto particolare, un teatrino di un piccolo paese dell'Umbria, vicino al Trasimeno, Panicale, dove ero stato portato da due carissimi amici che vedo collegati e che ringrazio, Elisa e Gianni, un viaggio incredibile, perché siamo arrivati in questo paese, era febbraio, che aveva cominciato a nevicare, e siamo usciti dopo lo spettacolo in cui Giuseppe aveva parlato del Mediterraneo, del mare, dell'estate, con il paese completamente deserto e con dieci centimetri di nevo, una cosa veramente incredibile, un ricordo veramente molto bello. Oggi parleremo del viaggio dei libri. I libri viaggiano, i libri hanno sempre viaggiato e viaggiano ancora, i libri devono viaggiare, sono come le idee, devono viaggiare, perché devono essere diffuse, condivise, altrimenti diventano inutili. Meno male che i libri viaggiano in questi mesi di lockdown, se non ci fosse stato Amazon a portarci qualche libro con le biblioteche chiuse, le librerie chiuse, sarebbe stato molto difficile. Adesso i libri viaggiano in aereo, oppure più modestamente via terra. Molto tempo viaggiavano per mare e oggi vorrei parlarvi di alcuni momenti cruciali, alcuni viaggi particolari dei libri nella storia. Cominciamo quando in realtà i libri non esistevano, non esistevano ancora. Siamo nel 1000, nel 900, 800 avanti Cristo, esistevano le lingue, esisteva la scrittura, ma la letteratura non era scritta. La letteratura era orale, era orale secondo vari aspetti, come ci ha insegnato Bruno Gentili, c'era l'oralità della composizione, l'oralità della comunicazione e della trasmissione, nel senso che i poeti non scrivevano ma improvvisavano, lo facevano dal vivo, quindi durante delle sedute di recitazione, durante degli spettacoli, e la letteratura veniva, non veniva letta, ma veniva ricordata grazie alla memoria, trasmessa attraverso la memoria. I protagonisti, gli autori, gli scrittori di questa prima fase della letteratura erano gli aedi, erano i rapsodi, erano figure come Omero, questo personaggio esistito, non esistito, che si spostava, come i suoi colleghi, per l'Egeo, attraverso le isole dell'Egeo, dalla Ionia, alla Grecia continentale, del resto, voi sapete che Omero ha tante patrie, erano tante le città che si vantavano di essere state la patria di Omero, se andate a Chio, che non è una delle isole più gettonate, ma è una isola che ha un suo fascino, anche se molto selvaggio, c'è un posto dove trovate dei rudiri con una scritta «qui abitò il poeta Omero», la stessa cosa che dicono in altre isole come Rodi, città come Smirne o Colofone. Comunque, nei poemi omerici il viaggio ha un ruolo molto importante, nell'Iliade sembra che non abbia un ruolo importante, però se l'esercito greco è accampato a Troia, perché ci è arrivato per nave, mi ha attraversato Mediterraneo e ci ha anche messo un po' di tempo, non tanto per fare il viaggio, quanto per partire. Come sapete, la flotta greca per 40 giorni è rimasta bloccata nel porto di Aulide e il comandante della spedizione, Agamemnon, ha dovuto addirittura sacrificare il suo figlio a Ifigenia per poter partire le navi. Sono comunque una presenza per tutta l'Iliade, sono il luogo estremo dei greci, quello che i troiani in un certo momento rischiano addirittura di attaccare o di distruggere. È dal mare che arrivano i due mostri marini che in un episodio reso famoso dall'Eneide Virgiliana stritolano il sacerdote Laoconte e i suoi due figli che aveva messo in guardia gli troiani dal far entrare il cavallo di Troia nelle mura della città. Però, quando si parla di Omere e si parla di viaggi la persona che viene in mente è sicuramente Ulisse e penso che Giuseppe qui possa raccontarci sicuramente qualcosa su questa figura, su questo personaggio. Eccomi, buonasera a tutti, grazie a voi di avermi, grazie a Simone di avermi chiesto questo viaggio. Io ho una voglia terribile di partire dopo questi dopo questi mesi di chiusura e questo incontro questa sera mi permette di partire e di partire con ben 84 persone in questa nostra nave che prende che prende che prende il mare da questa stanza affollata. Bene ragazzi, allora si parte come ha detto Simone come ha detto Simone questa storia che sto per accennarvi naturalmente parliamo dell'Odissea del viaggio di Odisseo è stata raccontata per tanti anni immagino nelle isole negli arcipeleghi dell'Egeo sulle coste nelle regge ha navigato ha viaggiato prima di diventare poi un corpo scritto che si chiama Odissea di un poeta che forse era cieco e forse si chiamava più poetica e forse si chiamavano insomma uno più bravo di loro nel mettere il suo nome che si chiama Omeo. Partiamo quindi dal primo viaggio di Odisseo che piange tutto il giorno guardando il mare è prigioniero di una bellissima donna che è Calipso il cui nome vuol dire anche nascondere quindi è una che cerca di di nascondergli il suo bisogno di tornare dalla moglie a casa dei padri sono passati sette anni quando gli dei decidono che insomma deve partire gli mandano Ermete il dio dei un dio anfibio un dio strano il dio del passaggio tra questo mondo e quell'altro un dio insomma e che è poi il messaggero degli dei Ermete arriva su quest'isola bellissima l'isola della vita eterna che il nostro viaggiatore dove invece il viaggiatore si è arenato e sa benissimo che la vita eterna corrisponde un po' alla morte lui vuole partire nonostante i rischi che lo attendono e grazie alla decisione degli dei grazie appunto al messaggero Ermete la dea capisce che non può pur essendo innamorata di lui deve lasciarlo andare immaginate la gioia la felicità di un marinaio che è fermo da sette anni che finalmente ha una zattera con una un timone con una vela con un albero la gioia io so che tra voi ci sono marinai marinai e capitani di lungo corso e quindi immaginate la gioia di la gioia è raccontata in questi versi vi racconterò solo la partenza del viaggio in pezzetto del del naufragio era già il quarto giorno lui aveva costruito questa zattera con l'aiuto della dea era già il quarto giorno e tutto gli aveva finito al quinto la Chiara Calipso lo fece partire dall'isola e gli mandò e gli mandò un vento propizio e leggero lieto del vento il caro disse otese le rele e gli dunque col timone guidava destramente seduto nel sonno gli cadeva sugli occhi guardando le pleiadi volte che tardi tramolte l'orsa che chiamiamo anche col nome di carro che ruota in un punto e spia a Orione 17 giorni navigò attraversandolo il mare al diciottesimo apparvero i monti ombrosi della terra dei Feaci sembrava come uno scudo nel fosco mare con lui dopo 17 giorni sembra quasi arrivato e vede la terra in cui spera di comunque una terra sconosciuta in cui spera di approdare ma naturalmente non è così semplice arrivare arrivare e tornare Poseidone Dio potentissimo Dio del mare è in collera con lui e lo ricaccia nel dolore gli manda una tempesta terribile eventi che lo sommergono erra dunque così per il mare dice poi dopo i molti mali sofferti finché arriverai tra uomini allevati da Zeus ma penso che neanche così dirai piccola la tua sventura due notti e due giorni vagò sull'onda dura e spesso il suo cuore intravide la morte ma Odisseo non ha paura della sofferenza perché sa che la sofferenza serve a crescere a formare ha sofferto tanto in guerra e non gli importa di soffrire sul mare quando Aurora dai riccioli belli portò al terzo giorno finalmente il vento cessò e ci fu calma di vento allora gli scorsi vicino alla terra la vede la terra e il poeta il poeta è straordinario perché mette dei piccoli dettagli che se fossi in teatro ve li farei vedere un po' più insomma però provate le immagini lui dice vede la terra quanto dista per sentire chi grida cioè quando tu quando tu urli senti la voce che ritorna indietro con l'eco questa voce però gli riporta indietro gli riporta l'eco sente l'eco degli scogli delle rocce delle onde contro gli scogli e capisce che si sarebbe sfracellato contro questa costa nuota sotto costa cercando sopra e sotto l'onda cercando e guardando con gli occhi finché vede un luogo finché vede un luogo meraviglioso particolare anche questo non è non atterra nell'isola dei feaci in un luogo qualsiasi atterra in un luogo poetico che un poeta americano ha chiamato carver ha chiamato dove l'acqua con altra acqua si confonde cioè approda alla foce di un fiume dove acqua dolce si incrocia con l'acqua del mare e a questo punto quando lui capisce che riesce ad arrivare ad approdare salvo come un marinaio che vede in qualche modo un'ansa un porto sicuro l'eroe prega riconobbe l'acqua del fiume Odisseo e lo pregò nel suo animo e lo prega con queste parole ascoltatele bene ascolta signore chiunque tu sia giungo a te che sei tanto invocato fuggendo l'ira di Posidone dal mare anche per le idee immortali e degno di compassione chi degli uomini arrivi ramingo come arrivo ora io al tuo corso alle tue ginocchia dopo tanto soffrire abbia pietà signore mi dichiaro tuo supplice e allora leggendo e rileggendo queste parole che hanno migliaia forse tremila anni io mi sento di dire qua con voi come come mi sento di dire in ogni volta che queste parole mi raggiungono che questa questa preghiera è la stessa preghiera nel mare color del vino degli uomini che arrivano oggi che sono arrivati e morti nel mare che arrivano e muoiono cercano rifugio sulle nostre coste la stessa preghiera sotto lo stesso cielo qualsiasi religione qualsiasi persona che sia un bambino un gran una donna fa questa preghiera e quindi questo è un motivo ancora di più per ascoltare questa storia e per capirla quanto questa storia parli di noi oggi questo libro che viaggia nel mare che cosa succede al nostro eroe piega le ginocchie come chiunque sia vinto dal mare sente la sabbia l'arena sotto i piedi gli stinchi e sulle ginocchia mette le mani a mezz'acqua appoggiate sull'arena e si guarda intorno e vede che c'è una riva di un'isola sconosciuta e dice che cosa mi conviene insomma per farvela breve si nasconde in un esce dall'acqua per non essere fiaccato dalla 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 debolezza dalla dal freddo della notte e si nasconde e qui è un'idea meravigliosa un'altra idea dello sceneggiatore Omero lo fa nascondere in un groppo in un groviglio tra due arbusti dove ci sono delle foglie e dice tante foglie quanto servono a coprire un uomo e a scaldarlo durante la notte anche d'inverno adesso quello che succede più o meno lo sappiamo lo sceneggiatore deve fare arrivare in quel punto dell'isola la mattina dopo la regina la vergine no la figlia della regina la bella nausica e guarda un po' la regista della storia che è Atena appare in sogno alla bella nausica e le dice sei grande hai quasi 18 anni vai a lavare ai lavatoi perenni e sulla riva del mare le tue vesti la tua dote e anche quella dei tuoi fratelli insomma fatti insomma vanno nausica va sulla riva del mare perché ci deve essere questo incontro incontra giocano a palla con le ancelle o disse o sente queste voci di ninfe o di femmine giovani esce fuori nudo bruttissimo le spaventa fuggono tutte tranne nausica perché Atena gli leva dagli arti il terrore gli mette anzi sugli uomini la forza delle donne e delle ragazze che sanno affrontare il destino lo vede e lui pensa o disse o sa parlare è uno che usa le parole con arte e fa una dichiarazione d'amore meravigliosa lei capisce che questo strano personaggio che è brutto sì ma poi lei lo farà pulire ma soprattutto lui si nasconderà si olierà si metterà delle vesti bianche e Atena lo trasformerà in un eroe insomma certo se tu hai Atena alle tue spalle che ti mette dei muscoli qua enormi e gli dice cosa che a me scatena una invidia enorme non solo gli dà dei muscoli è tutto pulito ma gli fa scendere dal capo dei riccioli simili a fior di giacinto allora immaginate questo meraviglioso uomo che prima era bruttato dal mare adesso è un figo pazzesco diciamo la verità lei rimane colpitissima e dirà Odisseo se tu noi ti aiuteremo perché siamo i feaci e siamo dei grandi navigatori ma chi decide del tuo futuro sarà mia madre e mio padre Alcino e Arete vai da loro gli spiega come arrivare lui arriva da loro verrà accolto con l'ospitalità dello straniero greca di questo mondo ai confini del mondo il mondo di faccia è un mondo misterioso e che cosa succede che cosa fanno vi leggo queste ultime due pagine prima di passare la parola a Simone perché sono sono straordinarie perché che cosa fanno allo straniero che potrebbe essere un principe un dio qualcuno che ha bisogno di aiuto gli promettono che lo porteranno a casa ma soprattutto gli offrono quello che loro hanno di meglio non solo mangiare e bere non lo rifocillano solamente non gli preparano degli spettacoli di arte varia e di acrobazia varia e di danza gli offrono l'aedo il cantautore il poeta migliore che hanno a corte Demodoco che guardate caso è cieco e come dice il poeta gli tolse la vista ma il dolce canto gli diede è cieco suona la cetra ma canta le glorie degli uomini e degli dèi in maniera divina e che cosa canta per lo straniero sconosciuto immaginate che questo straniero è avvolto in una veste purpurea che gli copre appena la testa così canta le lodi del prode Odisseo e della guerra di Troia Odisseo sentendo che la sua storia è già diventata epica e viaggia attraverso l'Egeo tanto da essere raccontata e riraccontata e musicata da una edo non ce la fa e piange e piangerà due volte la seconda volta sarà lui che sfiderà e Demodoco e gli dice Demodoco canti le sorti degli Achei in maniera divina prova a cantare se la sai racconta la storia del cavallo del cavallo che Odisseo cioè lui quasi si sta per svelare lui che ha mantenuto celata la sua identità fino ad ora e quando Demodoco rimettendosi a suonare e canta la storia del cavallo per la seconda volta il nostro eroe piange ma fa un gesto straordinario un gesto incredibile che a me ricorda tanto mio padre cioè si dice ve lo leggo con le parole di Omero ve lo leggo con le parole di Omero perché valgono la pena e poi abbiamo quasi finito e dice queste imprese il cantore famoso cantava e si struggeva Odisseo il pianto gli bagnava le guance sotto le palpebre cioè dice che piangeva così tanto come una donna che è arrivata a schiava ha visto il suo uomo morire davanti viene portata via no una donna che ha perso suo marito durante la guerra viene portata via cioè piange piange come spargeva pianto straziante sotto le ciglia a questo punto il re Alcino che non è sciocco è seduto accanto a lui se ne accorge per la seconda volta ferma tutti e dice c'è qualcosa che non funziona il nostro ospite non è e mentre piange Odisseo fa questo gesto per non farsi vedere che piange dai feaci si copre con gli occhi con il mantello purpureo ma nonostante questo gesto di pudore e anche di nascondimento Alcino se ne accorge ferma tutto e a questo punto dice non va bene ospite chi sei dici il tuo nome chiunque ha un nome dici perché piangi e dici che cosa è successo laggiù nella terra di Troia sotto le mura di Troia di perché piangi e perché nel tuo animo gemi quando odi la sorte dei Dana e Argivi ed Ilio ascoltate bene queste due frasi che sono il succo anche di tutto quello che stiamo raccontando questa sera con Simone sentite cosa dice il re e cosa dice a noi oggi qui a volerla la tua sorte a volerla sono stati gli dèi filarono la rovina per gli uomini perché avessero anche i posteri il canto quello che ti è successo la tua storia quello che è successo nel passato è stato filato dal destino da chi volete perché noi potessimo raccontarne emozionarci e seguirne la storia queste in queste due parole per me in questo momento io mi sento saldato ai centinaia di migliaia di piccoli raccontatori che raccontano una storia enorme sulle loro spalle e quindi in qualche modo queste due frasi ci portano alla 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 fonte del senso dei libri della letteratura delle storie che si raccontano perché noi possiamo possiamo viaggiare con queste storie farle nostre e costruircene altre e forse usarle per la nostra vita da questo punto in poi lui naturalmente si svelerà e dice sì d'accordo è vero sono Odisseo la mia fama vola alta nel cielo sono io sì mi conoscono tutti sono io quello lì si trattiene a forza e a questo punto gli chiedono racconta come sei arrivato qua a questo punto lui sa che deve raccontare e tutta l'odissea che noi sappiamo da bambini o da grandi i proci no i proci scusate no perché sono ancora il futuro ma tutto quello che è successo Polifemo Scilcaridi i Lestrigoni i Ciclopi eccetera 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 lo racconterà da adesso in poi straordinariamente il nostro eroe Odisseo che non ha paura di piangere perché le lacrime fanno bene agli uomini e alle donne eccoci qua e questo è un primo viaggio che hai fatto non so se sono stato troppo lungo ma mi è venuto così che vi devo dire Giuseppe Giuseppe racconta questa questa storia ogni volta in modo diverso perché anche lui improvvisa anche lui anche lui crea quasi come come faceva come faceva Omero e che succede allora in Grecia allora c'è un Omero di qui un Omero di là uno lo inventa in un modo uno lo racconta in un altro eccetera ma poi a un certo punto bisogna scrivere questo testo no? deve rimanere ormai la fase orale è passata siamo arrivati al momento dello scritto ci vuole qualcosa che rimanga e qual è l'Omero vero? qual è la vera Odissea? qual è la vera Ilia? bisogna sistemare tutto questo materiale che è stato trascritto in varie città in varie epoche da persone diverse insomma servono gli esperti serve nasce una nuova professione nasce quella del filologo colui che ricostruisce un testo e ne dà un'edizione corretta e definitiva ma i filologi si sa per fare il loro lavoro hanno bisogno di molte cose tra le quali cito le prime che mi vengono in mente vabbè uno è uno stipendio poi un ufficio e magari anche una biblioteca a pensare di dare queste cose appunto ai filologi ci pensano i sovrani d'Egitto che è diventato un regno autonomo dopo la morte di Alessandro Magno i tolomei chiamati così perché si chiamavano tutti tolomeo all'inizio del terzo secolo intorno al 280 il tolomeo numero 2 chiamato Filadelfo fonda il museo e la biblioteca il museo è un luogo dove questi filologi si riuniscono per mettere assieme per curare questi questi testi e fonda anche la biblioteca perché servono i libri e la fonda ad Alessandria ad Alessandria di Egitto dove la letteratura classica a partire da Omero viene raccolta e studiata e come arrivano però questi libri che sono sotto forma di rotoli di papiro ad Alessandria dalla Grecia ci arrivano via mare ovviamente quindi anche loro viaggiano attraverso il Mediterraneo dalla Grecia un viaggio abbastanza lungo fino ad arrivare ad Alessandria che si trova tra l'altro anche ai confini occidentali dell'Egitto e ci arrivano nei modi più svariati anche in modi abbastanza curiosi non del tutto legali sappiamo che Tolomeo voleva avere nella sua biblioteca le tragedie di Eschio di Sofoco e di Euripide che erano state rappresentate a Atene nel V secolo e per avere questi testi c'è bisogno di una copia una copia ufficiale che era quella che era conservata negli archivi di Atene perché le copie che circolavano erano state manomesse dagli attori che le cambiavano cambiavano le parti aggiungevano delle parti in più insomma ci voleva la copia vera quella che era stata veramente messa in scena ad Atene Atene naturalmente non vuole privarsi di questi di questi testi così preziosi allora Tolomeo dice sentite facciamo così io vi lascio una cauzione scegliete voi la cauzione e poi mi date questi libri questi papiri io li copio e poi ve li restituisco gli Atenesi si fidano stabiliscono una cauzione altissima 15 talenti e lasciano partire i loro preziosi rotoli naturalmente Tolomeo una volta che i rotoli arrivano ad Alessandria dice tenetevi pure i soldi tanto io ne ho tanti e a me fa comodo invece tenere questi testi Alessandria diventa quindi un centro fondamentale per la cultura greca per tutto il periodo che va dal quarto al primo secolo avanti Cristo infatti si chiama il periodo Alessandrino Alessandria però è una città che è anche importante anche curiosa forse Giuseppe ci può dire qualcosa di qualcuno che è nato ad Alessandria anche se magari le persone non lo sanno sì io vi posso raccontare ben due storie su Alessandria che ho scoperto che ho scoperto con il mio lavoro cioè raccontando storie leggendo leggendo libri per raccontare la prima storia l'ho scoperta mettendo insieme il materiale per un libro sulla prima guerra mondiale e forse la storia che sto per raccontarvi è quella che mi ha fatto decidere mi ha fatto decidere di insomma dedicare due anni della mia vita a raccontare le storie dolorose drammatiche di quegli italiani che morirono sulle montagne in quella tremenda guerra del 15-18 perché un giorno ho letto una frase di uno scrittore di uno storico inglese e la frase era questa mi ha fatto vedere un'immagine le cose che ci colpiscono ci colpiscono perché in qualche modo risuonano con qualcosa che noi abbiamo vissuto o che abbiamo dentro che ne siamo consci o non consci e mi stava parlando di qualcosa che io conoscevo ma ancora non sapevo sentite questa è notte una luna quasi piena pare scompare tra le nuvole e mentre la furia della sesta battaglia di Lisonzo si sta placando un uomo avanza lento tra i massi del greto cerca di tenersi più possibile all'ombra scivola senza rumore fino al sommallanza argentata del fiume è un fiume in guerra c'è una pausa improvvisa lui questo poeta che io immaginavo già piccolo è arrivato davanti all'acqua fa qualcosa di straordinario che noi facciamo in vacanza su un fiume in vacanza o al mare cosa fa? si spoglia si leva questi panni sudici di guerra infestati di pulci di sudore di paura Lisonzo è un fiume che trascina morte corpi smembrati morte eppure lui fa un gesto straordinario visto che visto che c'è la luce si è spogliato si è riparato dietro il tronco di un albero e mette i suoi piedi macerati dall'umidità e dal fango della guerra li immerse nell'acqua e anche solo questa immersione poi si immergerà anche solo questa immersione dell'acqua in qualche modo fa rivivere qualcosa dentro di lui è un poeta questo piccolo uomo fa un altro gesto strano strappa un angolo di una scatola di cartucce e ci scarabocca sopra qualcosa le parole di una poesia che diventerà famosa che è una poesia occidentale che ci racconta quello che cantano invece poi gli indiani cioè che la vita e la morte sono una cosa sola e che l'energia dell'acqua è un'energia potente forte che fa addirittura rivivere le persone umane questa poesia che vi accenno è una poesia che parla beh ve l'accenno poi vi dirò chi è questo poeta che storia ho scoperto di questo poeta vi tengo a quest'albero mutilato abbandonato in questa dolina che è il languore di un circo prima e dopo lo spettacolo e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna stamane mi sono disteso in un'urna d'acqua è come una reliquia ho riposato l'isonzo scorrendo mi levigava come un suo sasso lui si sente quasi unito alla natura ai sassi del fiume cammina sull'acqua si inchina al sole che arriva e dice queste parole questo è l'isonzo e qui meglio mi sono riconosciuto una docile fibra dell'universo il mio supplizio è quando non mi sento in armonia ma quelle occulte mani che mi intridono l'acqua come mani occulte che mi intridono mi regalano la rara felicità e qui vede tutti i suoi fiumi e dice questo è il serchio al quale hanno attinto mia madre mio padre duemila anni forse di gente mia campagnola questo è il Nilo che mi ha visto nascere crescere e ardere di inconsapevolezza questa è la senna e in questo torbido mi sono rimescolato chi è questo poeta che ha vissuto che ha vissuto gli antenati sono della Toscana che è cresciuto nato sulle sponde del Nilo ed è diventato un uomo è un poeta maturo è grande e ha conosciuto la sua identità forse più vera è più solida a Parigi sulla Senna questo poeta è Giuseppe Ungaretti e allora la sua storia mi ha così colpito il figlio di una coppia di una famiglia di poveri contadini della metà dell'ottocento delle campagne della Lucchesia emigrati in Africa come adesso emigrano i poveracci africani che vengono da noi a cercare una vita e a rifarsela perché suo padre lavorava nei cantieri del canale di Suez pensate cosa doveva essere lavorare nel deserto africano nella seconda metà dell'ottocento muore il padre muore quasi subito e il piccolo ha due anni Ungaretti ma sua madre riesce gestendo un forno pensate facendo il pane riesce comunque a mandarlo a scuola in un'ottima scuola francese e poi a poco a meno di quasi ventenne il nostro il nostro Ungaretti giovane che è un povero sradicato parte verso l'Europa che sente come la sua patria arriva a Parigi incontra l'avanguardia non lo nota nessuno dicono i contemporanei aveva solo questi occhi quando sorrideva come chi si ricorda Ungaretti quando sorrideva gli occhi la sua faccia diventava quasi li chiudeva quasi ma diventa amico di Guillaume e poi decide di andare in guerra di vestire l'uniforme del padre dei padri cerca crede si illude di trovare un'identità andando a morire in guerra per fortuna nostra non morirà e per fortuna sua ovviamente questa è la storia straordinaria allora perché questa storia mi aveva così colpito perché grazie a queste parole a questa poesia avevo poi deciso di fare qualcosa che mi avrebbe coinvolto così tanto perché immergersi nell'acqua di un fiume per la vita e per la morte è qualcosa che io conosco come ha detto Eleonora prima e ti ringrazio Eleonora di quella presentazione così generosa che hai fatto prima nel mio nel mio viaggio alle sorgenti del Gange un viaggio alla meraviglia verso le grandi montagne un viaggio da turista in una in una cultura in una religione altra complessa come la regione indulista insomma io vengo a sapere alla fine del viaggio che una carissima amica che doveva essere con noi ma che poi lavorando per le Nazioni Unite doveva volare a Pristina proprio il giorno in cui io stavo per partite per le sorgenti tra le montagne il suo aero si schiantava con altri 28 funzionari e volontari e operatori delle Nazioni Unite quindi questo dolore immenso di una morte che vengo a sapere al telefono grazie alla compassione di mia madre che da migliaia di chilometri di distanza capisce che comunque alla fine del mio viaggio lei deve dirmi questa cosa va bene insomma quelle lacrime che io pianto con i miei compagni per Paola Biocca perché era Paola Biocca la nostra amica morta tra le montagne del Kosovo nel 99 quelle lacrime e anche l'immersione che poi feci in una confluenza sacra del Gange mi hanno permesso di capire profondamente questa poesia di Ungaretti a questo punto c'è un altro viaggio che avviene poco dopo quello che ho appena appena raccontato e la letteratura greca va ad Alessandria appunto per per essere ricostruita studiata ma neanche 50 100 anni dopo parte per un'altra direzione sempre verso occidente ma questa volta non verso l'occidente dell'Africa ma verso l'occidente della Magna Grecia è la letteratura greca che va in Italia va a Roma arriva a Brindisi e seguendo la Riappia arriva fino fino a Roma perché la letteratura latina nasce dalla dalla letteratura greca ricordate tutti il famoso verso di Orazio che disse la Grecia capta ferum victorem cepit no? cioè la la Grecia sconfitta dai romani conquistò il suo vincitore selvaggio questa è la parte della citazione che tutti si ricordano e poi prosegue artes intulit agresti Lazio e portò nel Lazio agreste che era di contadini le artes cioè il senso della bellezza quindi l'arte la letteratura tutto ciò che è bello e quindi abbiamo questo viaggio della letteratura greca che va a Roma da corpo sostanza alla letteratura latina e poi da qui ovviamente alla letteratura europea che senza questa letteratura latina non sarebbe non sarebbe neanche nate naturalmente anche qui abbiamo delle storie delle storie particolari anche delle storie drammatiche di questo viaggio di questi viaggi di libri sappiamo ad esempio che uno dei più grandi poeti comici latini Terenzio Terenzio sempre accoppiato a Plauto Terenzio morì proprio mentre tornava dalla Grecia dove era andato a cercare dei manoscritti delle commedie di Menandro che era il suo autore preferito e di cui utilizzava le trame per le sue le sue commedie quindi muore in quel viaggio in quel marionio dove come un migrante come avevano fatto purtroppo gli albanesi se vi ricordate negli anni 90 quando si dissolve l'Unione Sovietica e crolla anche il regime comunista di Enverogia gli albanesi arrivano in Italia attraversando lo stretto il canale di Otranto è stato raccontato da un regista con cui Giuseppe ha lavorato di recente cioè Gianni Amelio in un film intitolato l'America e quindi abbiamo questo caso drammatico di Terenzio che muore in mare lui che era a sua volta stato un migrante perché il nome completo di Terenzio è Publio Terenzio Afro e Afro vuol dire che era africano perché Terenzio era nato a Cartagine ed era uno schiavo ed era giunto a Roma anche lui attraversando quella parte di mare dove ci dicono i telegiornali stanno già per ripartire di nuovo questi sfortunati che cercano di raggiungere l'Europa per poter vivere meglio un altro viaggio ancora e qui faccio un salto di qualche secolo è un nuovo viaggio della letteratura greca di nuovo siamo però intorno alla fine del Medioevo siamo tra il 1300 e il 1400 cosa succede? L'impero romano d'Oriente che era rimasto indenne non aveva subito troppi danni dalle invasioni barbariche comincia a vacillare sotto i colpi di un di un nemico molto potente gli ottomani gli ottomani nome che deriva dal primo sultano degli ottomani cioè Osman primo che diventa re nel 1299 cominciano a muoversi dall'Anatolia cioè dalla penisola turca per arrivare verso occidente il loro obiettivo è Costantinopoli Bisanzio la capitale dell'impero romano d'Oriente allora cosa fanno i greci minacciati vanno in Europa vanno in Italia a chiedere aiuto chiedono aiuto ai cristiani cristiani come loro anche se di fede cattolica e non non ortodossa ma gli europei non sono particolarmente propensi ad ascoltarli e cosa fanno per vivere questi intellettuali uomini di cultura ambasciatori che a poco a poco cominciano ad arrivare in Italia insegnano la loro lingua insegnano il greco il greco che negli anni del crollo dell'impero romano d'Occidente e dell'invasione dei barbari che è ormai stato completamente cancellato dall'Europa nessuno sa più il greco Dante il greco non lo conosce sa chi è Omero ne parla lo mette lo colloca nel lo colloca nel limbo non aveva mai letto nulla di Omero perché il greco non lo conosceva neanche Petrarca conosceva il greco aveva un manoscritto di Omero che gli era stato regalato da un ambasciatore bizantino ma non gli serviva nulla perché non poteva non poteva leggerlo prese anche lezioni di greco il povero il povero Petrarca ma il suo maestro era questo personaggio bizzarro che si chiamava Leonzio Pilato che forse greco lo sapeva perché però non lo sapeva insegnare quindi il povero Petrarca non riuscì mai a imparare il greco però questi greci vanno in Italia cominciano a insegnare il greco nel 1396 Emanuele Crisolora ottiene l'incarico di professore di greco allo studio fiorentino all'università di Firenze e portano con sé i loro manoscritti i loro libri e a poco a poco questi manoscritti cominciano a viaggiare anche loro attraverso lo Ionio e raggiungono 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 l'Italia naturalmente un amico di Crisolora Guarino Guarino va a Costantinopoli e compra si compra un manoscritto che lui chiama il mio Aristofane e lo scrive lo scrive in fondo nell'ultima pagina il mio Aristofane comprato a Costantinopoli il primo marzo del 1406 lo potete vedere la biblioteca vaticana si può anche scaricare da internet si vede proprio la scritta di possesso di Guarino Guarini e così nella prima età del 400 tutti i principali autori della letteratura greca fanno questo viaggio attraverso il mare e arrivano in Italia prima tappa a Firenze e poi da lì tutta tutta l'Europa arriva Aristofane arriva Platone arriva Eschilo Euripide eccetera e a poco quindi la letteratura greca torna a essere studiata in Europa e ognuno di questi manoscritti ha la sua storia e ce n'è uno di cui ho raccontato ho raccontato la vita e forse Giuseppe magari riesce in pochi tratti a raccontare anche lui alcuni dettagli di questo particolare manoscritto Allora innanzitutto questo bellissimo libro che sembra piccolo vedete qua sembra io un manoscritto un viaggio di carta attraverso tutta la storia la storia di mille anni si può dire proprio mille anni esatti dal novecentocinquanta dopo de cristo alla io direi al millenovecento nove qui lì concludiamo la nostra storia ve la faccio breve ma ho dovuto studiare per farla breve l'ho dovuta raccontare ad amici amiche fidanzata per vedere se l'avevo capita bene adesso ho ancora delle delle lacune ma quello che ho capito è questo è quello che racconta in maniera semplice e complessa al tempo stesso perché è un filologo quindi deve essere preciso quindi è un libro è un libro molto interessante il viaggio che cos'è questo libro è una raccolta c'è un maestro di scuola giusto un maestro di università che vive a Costantinopoli sì e che ha la passione per la Grecia per la cultura greca ma soprattutto per una forma di poesia greca che è sintetica e e nella sintesi trova la sua arte più completa che sono gli epigrammi greci dal quarto secolo poi dopo si aggiungeranno fino al quinto secolo dopo Cristo insomma copia trova è un collezionista un po' folle si chiama Costantino Cefala questo colpisce Cefala ma lo ricordo bene perché vuol dire che Cefala vuol dire capoccione come dice Simone Berta lui crea questo manoscritto e questo manoscritto naturalmente contiene e chi sa capire che cosa contiene capisce che è un tesoro di per sé viene mantenuto e copiato e vive per cento duecento anni tranquillo in un monastero lo sfogliano e lo leggono degli amanuensi qualcuno ne copia delle parti finché quando arrivano i crociati prima e si nasconde disperato in una cantina quando arrivano gli ottomani duecento anni dopo nel millequattrocento eccetera naturalmente viene portato via chi è che lo porta via prima che venga bruciato distrutto smembrato che scompaglia lo portano via i colti intellettuali greci viaggiatori o italiani umanisti giusto che lo portano in Italia perché l'Italia nel cinquecento era un paese era un paese che insomma accoglieva questi libri che arrivavano che cosa succede? che un giorno arriva a Padova e a Padova questo colto esperto e questo colto collezionista che riesce appunto a ottenere questo libro questo libro immaginate un libro diciamo grande così più o meno un po' più piccolo di questo spesso così spesso un quindici centimetri almeno che conteneva centinaia e centinaia di poesie di epigrammi greci e viene mostrato ad un ospite speciale a casa di questo Padovano di questo colto collezionista che possiede questo manoscritto tu dimmi se dico delle stupidaggini chi c'è a cena assolutamente ma sentite com'è la storia chi c'è a cena quella sera come se noi invitassimo noi siamo collezionisti di adesso non so di libri ma insomma di tappeti di quadri così a cena da noi viene Erasmo da Rotterdam in quella sera c'è Erasmo da Rotterdam che sa leggere il greco capisce che questo libro è interessantissimo mostra molto interesse e questo suo ospite gli dice ti interessa? beh proprio perché tu sei Erasmo da Rotterdam e so che sei un gran personaggio te lo presto naturalmente un prestito così quindi non lo vedrà mai più Erasmo da Rotterdam se lo porta a Londra a Londra una sera lo mostra a Tommaso Moro Thomas Moore che dice ma questo libro è interessantissimo se lo prende solo che Tommaso Moro dopo qualche anno per il suo essere cattologo viene decapitato questo libro intanto fa parte della famiglia di Thomas Moore lo prende il genero che se lo porta in Belgio all'Ovanio giusto? giusto giusto tra l'altro il genero si è laureato a Siena è stato ha studiato medicina a Siena è stato anche il medico di Enrico VIII quindi insomma era uno che aveva molti interessi insomma ma siamo solo all'inizio nel senso che da L'Ovanio che per adesso è un posto tranquillo che mi dicono a L'Ovanio dei Paesi Bassi e uno dice se andate su Inter c'è una cittadina nota per le birrerie io adesso non so se al tempo c'erano le birrerie ma insomma e poi da L'Ovanio arriva ad Heidelberg in una serie ottima sicura biblioteca ma siamo nel 600 nulla è sicuro perché sta per scoppiare la guerra dei 30 anni di nuovo religione di nuovo ammazzamenti di nuovo anni di terribili e quindi da Heidelberg i cattolici che assaltano Heidelberg capiscono che tra i tesori da portare via e da regalare chi è il capo dei cattolici il re è il papa quindi questo povero manoscritto che nel frattempo è stato ricopiato smembrato tagliato in due senza neanche la copertina pensate un po' imballato in una cassa in un carro traballante qua mi ha molto colpito questa cosa perché come fa da Heidelberg arrivare a Roma non certo con un container non certo con un treno non certo con un pullman ma con una carrozza attraverso Monaco il Tirolo la Valtellina e qui si è acceso un campanello perché sono Valtellinze quindi mi immagino che nelle terre fangose nel seicento la Valtellina passava un carro con questo tesoro arriva a Roma dove va? nella Biblioteca Vaticana dove c'era Sisto qualcosa nella Biblioteca Sistina quello che avrebbe fatto la Cappella Sistina fa anche la Biblioteca Sistina e in questa nella Roma Papalina di Sisto per fortuna se ne sta non so quanti anni ma un bel po' quanti anni? quanti anni? ma un centinaio più o meno un centinaio di anni insomma se li passa tranquillo tra i monaci Papalini di Roma solo che sta per arrivare il Napoleone Napoleone cosa fa? arriva in Italia e l'ho imparato l'altro giorno ma ve lo dico come se lo sapessi che fosse un contrattato di Tolentino ottiene che il Papa gli gli dia i tesori perché Napoleone come tutti insomma si porta via tra i tesori romani si porta via anche questa antologia palatina che poi finisce la Biblioteca Nazionale di Parigi poi sarà e poi dopo Waterloo torna ad Heidelberg insomma questo viaggio questo pericolo enorme non è ancora finito perché è tornato a casa dopo duecento anni quasi ad Heidelberg e poi se ne sta un po' più tranquillo mi sembra ma cosa succede e questo devo dire a Simone che ha raccontato questa storia ha parlato e l'ha raccontato in maniera nel 1909 in America un signore che si chiama Edgar Lee Masters ne legge una copia tradotta in inglese e rimane così colpito da questi epigrammi che non di cui non venne ho letto neanche uno ma poi scusate prima di andare a letto almeno uno o un paio ve ne devo leggere perché sono straordinari rimane così colpito dalla sintesi ma come si possono descrivere cioè in poche righe sintetizzano una vita un destino quello che c'è di misterioso nella vita di lui devi essere un grande poeta per scrivere un epigramma che funziona e rimane così colpito Edgar Lee Masters che qualche anno dopo scriverà quello che tutti noi conosciamo e questa volta lo conosciamo per tanti motivi l'antologia di Spoon River cioè questo libro che ha viaggiato da una scuola di Costantinopoli grazie alla follia e alla passione greca di Costantino Cefala ed è arrivato duecento anni dopo in America no forse mille anni dopo in America ha creato un'altra opera d'arte ha ispirato Edgar Lee Masters per raccontare per raccontare l'antologia di Spoon River adesso però vi vorrei leggere vi vorrei leggere due epigrammi uno molti di questi epigrammi parlano di mare che è il tema del nostro viaggio mediterraneo l'acqua la navigazione uno è una una un epigramma è una preghiera pagana rivolta al dio Priapo che è anche potetoe dei porti però mi sembra bello perché siccome io come tutti voi speriamo di partire di viaggiare di fare un viaggio che ci tutti noi speriamo di sciogliere le nostre gomene e così comincia così questo scioglio mercante le lunghe gomene dalle navi ormeggiate nel porto e dopo aver spiegato le agili dele prendi il mare le tempeste sono fuggite via col suo dolce soffio il mite zefiro placa sorridente l'onda scura già la rondine che ama i suoi piccoli costruisce con le sue labbra cinquettanti la sua casa di paglia tenuta assieme dal fango sulla terra spuntano i fiori fidandoti di Priapo comincia pure le tue navigazioni e questo è un augurio che faccio a tutti noi per i nostri ma ve ne devo leggere un altro scusate so che è tardi ma questo qui è un epigramma erotico perché molti epigrammi erano anche oltre che epitaffi oltre che sulle coppe oltre che invocazioni agli dei sono anche erotici e uno di questi meraviglioso è arrivato e per fortuna non è stato manomesso nella traduzione e dice così ho giudicato i culi di tre donne dopo avermi mostrato il nudo fulgore del loro corpo mi hanno scelto come giudice la prima era come un fiore per la candida dolcezza delle natiche suggellata da rotonde fossette quando opriva le gambe la bianca carne della seconda si imporporiva diventando più rossa di una rosa scarlatta questa è poesia ragazzi e ragazze la terza che involontariamente faceva tremare la sua morbida pelle era come un mare calmo solcato da onde silenziosi questa è una poesia straordinaria uomini leggetela alle vostre compagnie e vedete se questo epigramma non le fa tremare e poi conclude l'epigramma se Paride il giudice delle tre dee prima di giudicare avesse visto quei culi non avrebbe mai voluto vederle quelle altre tre dee insomma che volete che vi dica questa è poesia o no? direi di sì direi di sì vabbè poi ce ne sono ce ne sono molti altri naturalmente adesso vi ho letto questo ma va bene molti altri chi vorrà chi vorrà leggerà e viaggerà e scoprirà questo viaggio straordinario è passata un'ora un'ora e una neanche così tanto vero vero tra l'altro insomma tu hai raccontato la storia di questo libro in dieci minuti ma insomma il libro ha viaggiato ha viaggiato parecchio avete visto che oltre ai mari di cui abbiamo parlato prima cioè il Mediterraneo ha anche viaggiato attraverso altri mari no? perché per andare ha dovuto recuperare la manica tra l'altro poi per andare all'Ovanio l'ha superata di nuovo e poi siccome che era appunto cattolico è stato richiamato in Inghilterra perché in Inghilterra sono diventati anglicani con Enrico VIII però poi hanno avuto Maria Stuart insomma hanno avuto una serie di cambiamenti per cui quando i cattolici erano tollerati allora questo Clement tornava a Londra e si portava dietro ovviamente sempre questo libro poi dopo quando a un certo punto è arrivata Elisabetta prima a quel punto John ha detto ciao all'Inghilterra è tornato in Belgio a Malin a Mechelen e lì è morto tra l'altro il manoscritto ha rischiato anche di fare anche dei viaggi sul fiume prima Giuseppe ha raccontato appunto del viaggio avventuroso di questo libro da Heidelberg fino a Roma che non era stato un viaggio un viaggio facile sappiamo dei dettagli abbastanza curiosi di questo viaggio oltre al fatto appunto della privazione della copertina perché ovviamente i libri con quelle copertine che avevano nel medioevo quelle copertine molto spesse occupavano tanto spazio per cui se si eliminavano le copertine erano circa 150 manoscritti si sarebbe potuto risparmiare sul viaggio ma il viaggio aveva presentato dei problemi perché naturalmente l'unica possibilità era di utilizzare dei carri ovviamente ma il problema è che i carri non si trovavano perché i contadini i protestanti non volevano dare i carri ai cattolici per portare via i libri addirittura avevano anche pensato per ovviare a questo inconveniente di fare viaggiare questi poveri libri sul fiume sul Neckar sul fiume di Heidelberg che appunto poi si congiungeva a Reno e quindi avrebbero potuto risparmiare una parte di viaggio però siccome tutto questo avveniva a gennaio a febbraio il fiume era ghiacciato e quindi insomma l'ipotesi viaggio di fiume è stata eliminata insomma torniamo però adesso sul mare perché insomma abbiamo un po' divagato in giro a spasso per l'Europa ed è giusto che facciamo anche noi il nostro ritorno sul Mediterraneo il nostro nostos nostos era parola che in greco significa ritorno nostoi erano chiamati quei poemi omerici che raccontavano il ritorno dei combattenti greci da Troia l'Odissea 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 è un nostos è il ritorno di Ulisse a casa anche il viaggio di Agamennone a Micenia ad Argo è un nostos ed è un nostos un po' sfortunato perché Agamennone come sapete appena arrivato a casa viene fatto fuori dalla moglie dalla moglie clitennestra e torniamo quindi nel Mediterraneo abbiamo visto Chio abbiamo visto Rodi due isole dell'Egeo ma andiamo ancora più giù andiamo più giù tra le isole dove Canneso e raggiungiamo un'isola che è la più piccola di tutte la più orientale che ha un nome italiano che è Castelrosso anche se quasi nessuno ormai la chiama così anche se ha avuto questo nome per quegli anni in cui ha fatto parte del territorio italiano insieme alle altre isole del Dodecanneso il suo nome greco è Megisti che vuol dire la più grande anche se in realtà è un'isola piccolissima il nome greco invece attraverso cui è conosciuta è Castellorizzo e sicuramente Giuseppe ci potrà dire qualcosa su quest'isola vero? Sì è assoluto adesso anche solo il nome mi fa battere il cuore però anche io io comunque voglio leggere una poesia prima scusatemi io devo tornare dopo sì mi racconterò in brevissimo il ritorno nell'isola di Castellorizzo l'isola che poi è l'isola del film che non è un ritorno semplice adesso lo è ma non lo è stato all'inizio semplice ma prima pensavo di non leggerla ma invece penso siete 82 avete resistito fino adesso resistete anche altri 5 minuti perché io vi devo leggere la poesia di Cavafis prima parlavamo di Alessandria purtroppo non vi ho potuto raccontare la storia di questo straordinario poeta greco però è nato ad Alessandria è viaggiato in Europa poi è tornato e è morto ad Alessandria lui ha scritto una delle poesie più belle del viaggio che conoscete ma ve la leggo stasera nella traduzione di Ceronetti è la poesia Itaca non posso parlare di Castellorizzo se prima non leggo questa poesia scusate perché so che capirete soprattutto in questo momento la capiamo ancora meglio dice così se Itaca è la meta del tuo viaggio formula voti sia una lunga via per i pezzi e scoperte la gremiscano le strigone ciclopi di Poseidoni eccessi d'ira escludili renderli vani a in te se via facendo col pensiero li domini se carne e spirito risucchi la vertigine mai vedresti le strigoni e ciclopi se psiche in te non li generasse né l'irascibile Poseidone ti sbatterebbe se psiche in te non lo drizzasse orrendo vogli la lunga la via e i mattini d'estate mai finiscano in cui ti accolgono finora ignoti porti che di dolcezze ti sfiniscano ad ogni suc dei fenici sosterai ci farai belli acquisti di coralli di madreperla d'ebani d'ambre e di profumi che stordiscano pigliane a sacchi di più godrai ma nelle città egizie tu e il rabondo di andante agli eruditi rivolgiti e da loro impara impara senza fine della tua mente avrai stella polare Itaca sempre la devi approdare termine ultimo tuo prescritto il viaggio fallo durare anni ritorna vecchio nella tua isola gli accumulati tesori lungo la via li sbarcherai con te perché da Itaca da Itaca ricchezze non puoi sperare il dono di Itaca è il viaggio che fu bello senza di lei per te quale cammino e null'altro sarà il suo dare pur così povera mai mai ti avrà deluso ora tu sei di vita e di sapienza talmente ricco e certo non ti hai ignoto il senso che ogni Itaca tramanda allora che vi devo dire ragazzi immaginate ve la racconto velocemente così immaginate un gruppo di 40 italiani tra cui due pugni di attori e gli altri levantini del cinematografare di Roma che con pochissimi soldi vanno a fare un film in cui nessuno credeva perché era un film un film di guerra in Italia non si è mai fatto soprattutto dopo i bei film del neorealismo insomma non lo voleva quasi nessuno e vengono mandati su un'isola che hanno trovato per caso quasi sceneggiatori e regista proprio doveva essere simi e invece hanno trovato un'isola che era perfetta perché era distrutta da Odissee una dopo l'altra dopo la guerra Castelloriz era stata completamente rasa al suolo bruciata non si sa bene da chi era stata italiana per vent'anni e nonostante il fascismo nonostante gli orrori del fascismo eppure la lontananza e forse l'umanità di allora di alcuni soldati italiani fa sì che i vecchi Castellorizini e anche i giovani parlino parlavano tutti l'italiano e abbiano verso gli italiani una sorta di simpatia umana questo gruppo fa un film nessuno ha un ego smisurato sono tutti attori all'inizio più o meno bravi che però hanno una buona sceneggiatura fanno il loro lavoro fatto bene e poi questo film che è un piccolo film che ha una grazia che ha una grazia che vince il tempo che vince i soldi che vince insomma ha una sua grazia non solo viene visto in Italia ma vince addirittura l'Oscar allora dopo e questi attori saranno per sempre ricordati in questo film visti come dei ragazzi giovani io avevo neanche 30 anni o sì forse avevo l'età del Signore Gesù Cristo avevo 33 e quindi pensate com'è difficile rivedersi continuamente in un luogo dove tu sei perennemente giovane perennemente felice perennemente senza chissà quale senza quella rogna che leggo il nome il piccolo successo eccetera quindi io per dieci anni non ci sono più potuto tornare ne avevo promesso a me stesso che non ci sarei mai tornato poi per fortuna invece grazie al non so a quale a quale destino forse al fatto che potevo scriverne quindi avere avere lo schermo della scrittura sono tornato dieci anni dopo il mio ritorno è stato bellissimo emozionante esilarante ho trovato una casa ho trovato quando sono arrivato mi tremavano le gambe avevo come una nebbia di emozioni davanti non volevo mostrarla naturalmente cercavo di darmi forza ma veramente ero emozionato come se quell'isola avesse un corpo una voce un qualcosa che mi che mi chiamasse e mi respingesse al tempo stesso all'aeroporto mi hanno accolto uno stuolo di ragazze in bichini che mi hanno mi hanno messo dei fiori avaiani perché era uno scherzo naturalmente del fotografo che era arrivato prima di me il mio amico Alberto Novelli fotografo aveva chiesto alle più belle ragazze dell'isola di accogliermi come un eroe che ritorna naturalmente io mi sono sono arrossito se non che dietro queste bellissime ragazze c'era il vecchio Costantino Maghiafi marito di Vanghelia che era colui che ci ha dato da mangiare per due mesi nel suo ristorante di suo e di Vanghelia a questo punto ci siamo messi a piangere perché mi ha abbracciato e mi ha offerto del basilico greco ho capito che avevo trovato un luogo dove sarei potuto senza paura della giovinezza affrontare il mio passato forse anche invecchiare felicemente senza paura e questo luogo mi era stato regalato dal mio lavoro di attore dalla mia fortuna non lo so io sono ogni volta senza parole ci sono tornato due anni e mezzo fa per compiere i miei 60 anni con amici che sono anche presenti qui e altri amici e i miei nipoti e mia madre plurinovantenne e il mio amore Alessandra insomma è stato mi è sembrato che un cerchio si chiudesse per riaprirsi perché poi sono tornato poi non ci torno almeno ogni due ogni anno e mezzo due anni so che tra di noi c'è Maria Angela che è una castellorizzina un'italiana che oramai è più castellorizzina che milanese anche lei ci accoglie e ci accolgono e questo è una bella storia e posso dire che anche io ho pianto molto su quell'isola e senza essere un eroe si piange anche senza essere eroe e quindi il Mediterraneo fa questi scherzi fa questi scherzi e questi regali meravigliosi ti devo dire qualcos'altro? beh forse leggici una poesia di Spurriver la prima delle due se ti ricordi che è adatta a quello che hai detto per chiudere e poi per chiudere però alla fine devo fare il mio il mio numeretto devo va bene quello si quello si lo faccio perché se no sembra che sia una persona per bene è molto è molto romantica così mentre invece sono molto molto meno va bene allora vi leggo a pagina 139 questa antologia di Spurriver l'epitafio dedicato da Lee Masters ad Alexander Trocmorton non vi serverebbe affatto fuori posto dice il libro dicendo se se lo trovassi tra le mie pagine questo è un epitafio del 1900 di un autore inglese da giovane le mie ali erano forti e instancabili ma non conoscevo le montagne da vecchio conoscevo le montagne ma le mie ali stanche non potevano seguire la mia visione il genio è saggezza e gioventù edgar io ti metterei nell'antologia palatina grazie Simone è stato scoprire questo libro e doverlo leggere e studiarlo e impararlo non dico memoria ma insomma poterlo raccontare spero che ci farà bene ci farà viaggiare e magari faremo un bello spettacolo insieme l'hai studiato bene complimenti senti e poi te l'ho te l'ho riassunto quasi in un racconto epigrammatico perché raccontare tutta la densità di questo in otto minuti ho saltato molto ma insomma però no no ma il succo c'era e quindi ricordatevi che quello che dice ricordatevi quello che dice il poeta a volerla sono stati gli dei la nostra sorte filarono la rovina per gli uomini speriamo anche non solo la rovina ma anche le gesta degli uomini perché avessero anche i posteri il canto noi abbiamo cantato le gesta dei libri dei viaggiatori del Mediterraneo i poeti e quindi io vi ecco no ma ci sono delle sarebbe bello se ci fossero delle domande sarebbe bellissimo che dite ragazzi o ragazze se posso sì dai Gigi Gigi puoi puoi ecco qua allora un saluto a Simone e il piacere di essere nella stessa stanza con Giuseppe Ceterna che devo dire avendo visto la settimana scorso Mediterraneo sul nostro dvd trovo ringiovanito perché l'ultima immagine non è quella quindi puoi essere felice di essere ringiovanito una piccola una piccola suggestione legata all'idea dell'ospitalità perché noi giustamente ricordiamo l'Odissea per l'ospitalità attiva cioè come ospitavano quindi come ospitavano Odisse Ulisse eccetera c'è una cosa da tenere presente che sono le domande che si pone Ulisse quando arriva da Polifemo e poi quando arriva la spiaggia di prima di Ernausica allora mentre in genere chi ospita dice chi siete che cosa fate perché venite qui il il naufrago il colui che gira l'emigrante si chiede misero me quale terra di genti mortali ho raggiunta sono così tracotanti e selvaggi e ignari del giusto o sono amici degli ospiti e hanno un cuore che teme gli dei cioè questa idea che noi proviamo a sentire anche le domande che si rivolgono a se stessi prima di affrontare e andrebbero tenute presente cioè fare un'antologia delle domande che si pongono i naufraghi che si mettono sui barconi più che sentire le storie sarebbe bella l'ultima cosa è una proposta io proporrei all'università di Siena di fare un contratto permanente a Giuseppe Cederna per presentare i libri perché se voi avete presenti le presentazioni palludate che si fanno dei libri dove deve parlare il direttore del dipartimento quello che ne capisce e invece sarebbe così bello parlare dei libri in questa maniera quindi Simone che ancora è in servizio farà questa proposta al direttore a Giuseppe Cederna in quanto d'altro grazie grazie molto grazie guarda che il direttore del dipartimento ci sta seguendo è anche lui connesso io a Siena io a Siena ci vengo sempre con piacere ho coppie di amici Elisa Giovanna il capitano Stefano non vedo l'ora di tornarci quindi ragazzi c'è un'altra domanda? complimenti perché è stato veramente bellissimo seguirvi in questi tanti viaggi in realtà non soltanto non soltanto uno io in realtà vado un po' fuori tema nel senso che mentre vi sentivo parlare mi è venuto in mente un libro che che ho letto da poco un libro di Chatwin le vie dei canti e leggendo quel libro mi ha colpito tantissimo il fatto che per gli aborigidi australiani i canti rappresentassero tre cose nello stesso tempo cioè la parola il canto aveva il potere di creare le cose di creare il mondo allo stesso tempo questi canti erano anche delle mappe per orientarsi nel nel deserto e inoltre erano anche i depositari appunto della memoria sia collettiva che personale dopo per personale si intende quella familiare quindi anche dei gruppi più piccoli e se contego tutto questo al potere quasi catartico del viaggiare del camminare non lo so mi viene quasi da pensare che se viaggia per odisse insomma qui beta mi chiamo ulisse no 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 si può dire proprio ulisse ok diciamo tutti e due i nomi mi viene appunto quasi da pensare che la sua non fosse solo una sete di conoscenza ma anche un tentativo di guarire e di espiare qualche colpa non lo so forse sono io che che vado oltre accidenti si sentiva in colpa per la presa di troia certo diciamo che ha avuto ha avuto l'occasione di espiare abbastanza no in parte cioè nel senso Ulisse è un po' il rappresentante non è l'uomo intelligente e nel senso più buono della parola Ulisse è un po' l'astuto appunto colui che che inganna e passa soprattutto e tutti pur di vincere di averla vinta quindi forse anche in questo senso doveva espiare qualcosa non so se sei d'accordo può darsi può darsi in realtà appunto è una persona che non del tutto innocente perché la tradizione ha conservato di lui grazie soprattutto a Omero dei lati dei lati particolari positivi però esiste anche un lato oscuro di Ulisse basta leggere qualche tragedia di Euripide e lo si vede basta vedere anche il giudizio la disputa sulle armi di Achille che lui riceve e provoca il suicidio di Ajace che era che era il più valoroso tra tutti i greci e quindi è una figura che insomma dietro di sé ha lasciato molti dubbi sicuramente va bene io se non ci sono altre domande allora chiederei forse a Giuseppe di leggerci un'ultima poesia e così diamo la buonanotte a tutti che ne dite va bene che cosa che che poesia volete Simone cosa leggo io leggerei un epitafio ma uno di quelli scherzosi però un epitafio scherzoso beh posso leggere la povera Timarione eh direi di sì va allora questo è un epitafio che è ricordo una una ecco tra i tanti epigrammi c'è questo impietoso ritratto della vecchia prostituta Timarione pieno di doppi sensi eccetera eccetera però sentite qua anche qua c'è una metafora marina navale sentite qui neanche i remi di Afrodite riescono a far navigare Timarione che un tempo era una nave scintillante sulla schiena le spalle sono curve come l'asta sull'albero i capelli bianchi sono come le scotte allentate le tette pendono flaccide come vele agitate dal vento le onde le hanno disegnato sul ventre rughe intrecciate sotto lo scafo è pieno d'acqua da tutte le parti il mare invade la stiva e le ginocchia tremano per il rollio non invidio chi dopo essere montato ancora vivo su questa vecchia carcassa attraverserà la palude infernale dell'Acheronte è molto impietosa questa qua poverina povera Timarione però e però ce n'è un'altra che vi leggo invece è un grande poeta vedi questa è la traduzione di un grande poeta italiano del novecento che traduce un epigramma di di scritto da Paolo un poeta bizantino del sesto secolo sentite com'è bella invece questa è un ode alla vecchiaia del proprio amore della propria donna amo di più le tue rughe filinna che lo splendore della giovinezza mi piace di sentire nella mano il tuo seno che piega giù pesante le sue punte più del seno dritto di una ragazza il tuo autunno il tuo autunno è migliore della sua primavera ed il tuo inverno è più caldo della sua estate accidenti questi epigrammi avete capito? bene ci sapevano fare ci sapevano fare questi poeti grazie a tutti voi io vi ringrazio esatto aspettate appena ha chiesto la parola a Emanuela Carbet oi no a Emanuela non si può mai dire di no Emanuela buonasera buonasera vi ringrazio per questo incontro molto suggestivo sentendovi parlare mi è tornato in mente un libro l'invenzione del quotidiano di Sert in cui si diceva che nell'Atene i trasporti pubblici vengono chiamate metafore quindi per andare al lavoro per tornare a casa si prende una metafora quindi un autobus o un treno e quindi si diceva appunto i racconti allora potrebbero portare anche loro questo nome di metafore e ogni giorno di fatto attraverso i racconti organizziamo dei luoghi e creiamo attraverso i racconti dei percorsi di spazio e quindi tanto più questo questo attraversamento di questa sera nello spazio e nel tempo è stato interessante in un momento in cui i nostri spazi sono piuttosto limitati allora forse la domanda diciamo porta un po' troppo in là rispetto al tema di oggi ma secondo voi questi questi racconti questo attraversamento molto ampio che abbiamo fatto come come può aiutarci in questo in questo momento di spazio assai limitato per tutti noi io penso che senza senza la possibilità di leggere e quindi di viaggiare con la mente con la fantasia non saremo stati capaci di di sopravvivere di resistere certo adesso diciamo per viaggiare ci sono rispetto ai greci ed ai romani ci sono altri strumenti come il cinema appunto che Giuseppe conosce conosce molto bene però sicuramente anche queste metafore di cui parlavi tu e Manuela ci hanno sicuramente aiutato a resistere un pochino di più insomma e non ce ne scordiamo anche se adesso possiamo muoverci con maggiore libertà e io posso dirti questo che da quando sono rimasto chiuso a casa con la fortuna di avere una casa di non essere solo di avere una compagna amorosa beh grazie a lei ho fatto proprio questo ho lanciato sul computer e sul insomma su youtube ho lanciato i viaggi poetici ho letto quasi una una ogni due tre sere ho letto una poesia delle favole di Rodari Alessandra le ha riprese sono state musicate e mandate ne abbiamo fatte trenta ecco queste trenta che non ci oramai non ci fermiamo insomma ci saranno sarà più difficile farle una ogni tre giorni ma questi viaggi in cucina poetici che vanno appunto da da tutti i poeti un po' del mondo i poeti che a me piacciono a me hanno hanno aiutato moltissimo e spero che abbiano aiutato anche amici o sconosciuti a viaggiare a sentirsi meno soli attraverso la bellezza delle parole il viaggio delle poesie scritte in vari luoghi atmosfere diversi in questo in questo periodo insomma triste drammatico con persone che muoiono persone che si ammalano la paura di incontrarsi oramai ci si incontra col gomito se pensate si va per strada c'è una c'è ancora forse più difficile ancora adesso che non il primo mese io credo che appunto la poesia le storie servano proprio a farci sentire più vicini più vicini a qualcosa che si chiama poesia bellezza arte umanità eccetera quindi ognuno di noi poi insomma ci fa il suo viaggio che deve fare questo mi sento di dirvi allora questa è la parola Daniele Giglioli grazie volevo dire volevo chiedere una banalità ma è già venuta fuori visto che è comparso spesso il personaggio di Ulisse che è il padre di tutti i viaggiatori e il padre di tutti i profughi è un personaggio inquietante come è stato detto anche da Simone Beta in altri testi che non sono l'Odissea ma anche nell'Odissea lui mantiene questa sua caratteristica di un grande bugiardo dovunque arriva lui mente perfino quando torna itaca mente mente alla moglie mente al figlio mente alla dea Atena che peraltro lo loda per questo gli dice non sei mai sazio di inganni è una scena molto diversa dal tornare in patria o in un posto dove si è stati amati accolto da corone di fiori è il nostro il nostro progenitore nel diritto d'asilo nel diritto d'aiuto è una persona che non dice mai la verità che si che racconta una storia perché gli chiede di raccontare una storia ma non racconta mai la sua vera storia non dice il suo nome non dice dove viene non dice perché è lì è molto cauto è scaltro eccetera volevo chiedere se questa cosa non rende ancora più fascinoso magari i motivi che avete toccato nel corso di questa bella discussione il fatto che è una persona che proprio per difendere se stesso si sente temuto perché glielo chiedono tutti a raccontare una storia ma lui stesso si sente temuto a raccontare una storia finta falsa bulgarda dichiaratamente bulgarda vai Simone e c'è stato anche chi ha detto che in realtà Ulisse abbia mentito perfino ad Alcino che anche i racconti delle sirene non me ne voglia Gigi i racconti dei ciclopi Scille Caridi eccetera eccetera Circe si erano stati inventati da lui in realtà abbia mentito anche anche in quello certo è una persona che sapeva che la vita presenta dei pericoli e quindi meglio mettere le mani avanti e nel caso di Polifemo sicuramente non ha sbagliato a dire che si chiamava nessuno anziché a dire che si chiamava Ulisse perché altrimenti avrebbe fatto una brutta fine perché ciclopi sapeva il nome vero dell'uomo che l'avrebbe accecato e quindi se non si fosse presentato come Utis non sarebbe arrivato né da Calipso e né dai 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 feaci detto questo poi certo magari uno si aspetta che quando torna a casa sua da sua moglie da suo figlio dopo dieci anni si è accolto a braccia aperte invece il povero Ulisse sapeva che non poteva presentarsi così perché i progetti avrebbero fatto la festa e quindi è un po' obbligato a comportarsi in questo modo e poi diventa una sorta di riflesso condizionato per cui a quel punto è talmente abituato a mentire per salvarsi la vita che a quel punto lo fa di default lo fa sempre intanto io dico una bugia poi vediamo se è il caso dico anche la verità poi però io devo dire io spezzo spezzo perché lui si deve raccontare insomma è duro viaggiare a quel tempo nel Mediterraneo dopo tutto quello che ha vissuto sicuramente è astuto e sa usare appunto sa usare la parola sa quello che gli serve sa come manipolare però per esempio lui quando di fronte all'amore di all'amore di lui sa che Calypso è una dea potente è innamorata fanno l'amore tutte le sere lui non vuole ma lei vuole che deve fare come lo spiegherà questo non si sa però alla fine lui dice la verità dice tu sei bella immortale e più sa che deve essere anche attento più di Penelope ma anche così io voglio tornare ma anche così desidero e voglio ogni giorno giungere a casa qui non può mentire glielo dice e se un dio mi fa naufragare sul maroscuro come vino saprò sopportare perché ho un animo paziente nel petto quindi bugiardo non bugiardo comunque è comunque è un personaggio dai vari aspetti che non cessa di di farmi di emozionarmi o comunque è un mistero anche lui poi chissà sarà stato vero come sarà stato avrà avuto quei riccioli di Giacinto a me quello che mi sorprende è come questa storia sia arrivata fino a noi che ecco come una storia raccontata nelle corti come come queste leggende c'è stato qualcuno che l'ha montata è una sceneggiatura questa storia è piena di flashback di viaggi paralleli cioè è la madre di tutte le sceneggiature se voi pensate che il viaggio di Telemaco all'inizio e il viaggio di Atena sono una va da una parte e una va dall'altra ma naturalmente in un libro ci sono quattro libri prima della Telemachia e poi dopo c'è tutto il viaggio di c'è il viaggio di Ermete che deve liberare però ci sono delle accortezze delle delle genialità questa cosa insomma è una storia che che ci aiuta a capire meglio un po' chi siamo anche attraverso le bugie o la verità anche attraverso le lacrime la domanda dalla diretta streaming sì però prima di leggervela vorrei prestare la voce al nostro direttore Pierluigi Pellini che vi ha salutato in chat non so se l'avete letto la domanda è questa è utile paragonare il Nostos di Odisseo a quello di Agamennone se ne può trarre qualcosa di proficuo poi boh anche anche Agamennone torna diciamo in un luogo che non è fatto per lui è solo che se non altro Ulisse torna in una città dove la moglie e il figlio sono dalla sua parte invece Agamennone no ed è anzi è la moglie che ha deciso di punirlo per il sacrificio di figenia perlomeno questo è quello che viene raccontato e quindi ha deciso di uccidere il marito peraltro c'è anche un'altra differenza Ulisse arriva nascosto e arriva da solo mentre invece Agamennone si porta dietro Cassandra si porta una schiava che naturalmente durante il viaggio di ritorno ha dormito con lui sulla nave e che lui ha intenzione di far dormire con sé anche a Micene quindi ha di fronte una donna che lo vuole punire perché ha ucciso sua figlia e perché lo ha tradito quindi e poi Agamennone forse è meno intelligente di Ulisse è più presuntuoso è sempre descritto così fin dal primo libro dell'Iliade si vede subito che Agamennone è un personaggio un po' particolare Agamennone mantiene questa sua caratteristica non solo in tutta la letteratura greca ma anche in tutte le riprese se uno si legge uno va a vedere la bella helenne di Offenbach Agamennone non ci fa sicuramente una una bella figura quindi la differenza è sicuramente è sicuramente questa è chiaro che quando quando il re andava via chi rimaneva pensava di fargli le scarpe insomma Ulisse è stato un pochino più accorto Agamennone no direi che non ci sono altre domande grazie ancora entrambi gli ospiti di stasera e vi do la buonanotte grazie grazie a tutti per la vostra pazienza grazie Giuseppe grazie Emanuela e grazie a tutti gli ascoltatori grazie a te Simone grazie Eleonora e grazie all'Università di Siena adesso quando quando mi fate un contratto ditemelo io io ci vengo mi trasferisco tra le crete senesi con molto piacere ti aspettiamo Giuseppe grazie ciao arrivederci arrivederci a tutti arrivederci